Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva, e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù. Poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro, e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Intanto, una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là, e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.